Amici sportivi appassionati di Palamano ben ritrovati dal Palazzo San Giacomo di Conversano da Francesco D'Alessandro per la quinta giornata di ritorno del campionato Serie A Beretta di Palamano Maschile questa sera si affrontano l'Accademia Palamano Conversano e la Palamano Cassano Magnago a mio fianco in postazione di commento come sempre saluto il carissimo Antonio Luciano saluto anche Massimiliano Fanelli in postazione di regia con Andrea Ingrassia alle riprese e dunque Antonio tutto pronto le squadre stanno per scendere in campo io come sempre affido a te il commento iniziale la presentazione di questa partita ciao ciao Francesco buonasera a tutti che dire l'abbiamo presentato in settimana come il remake della finale di Coppa Italia ed è proprio questo quindi una partita assolutamente diciamo molto importante per entrambe le squadre che soprattutto negli scorsi match negli ultimi match è stata sempre estremamente equilibrata conclusa massimo con due reti di scarto in favore dell'uno e dell'altra squadra quindi segno veramente tangibile che negli ultimi tre anni questo è stato davvero un confronto molto molto equilibrato andando più nel dettaglio delle squadre prima parlavamo con il dirigente del Cassano Magniago Cristiano Braggioni il quale ci diceva che c'è qualche acciaccato nelle fila del Cassano Magniago per cui diciamo probabilmente il Cassano dovrà fare a meno di qualche suo elemento invece il Conversano in formazione tipo quindi davvero una gara tutta tutta da vivere ed allora io vado velocemente a leggervi le formazioni delle squadre partendo come sempre dalla formazione ospite del Cassano Magniago che è scesa in Puglia con Stefano Bassanese Thomas Bortoli Filippo Branca Mattia Dorio Marco Fantinato Ardiani Balli Ivan Illic Marco Lamedola Federico Mazza Luca Monciardini Alessio Moretti Massimiliano Possamai Gabriele Saitta Ivan Scici l'allenatore Davide Colez per il Conversano invece Roberto Bucco Cosimo Carone Ignazio De Giorgio Pasquale Di Caro Pasqualino Di Giandomenico As Diop Fati Umberto Giannoccaro Arna Damzic Angelo Laviola Jacopo Lupo Jacopo Nelson Maurizio Pignataro Demis Radovcic Gian Valentino Rossetto Giovanni Rosso Gian Paolo Sciorsci l'allenatore Alessandro Tarafino il direttore di gara sono i signori Cardone e Cardone di Napoli dunque saluti di rito qui al Palazzo San Giacomo Antonio abbiamo diciamo già detto in apertura i tanti temi di questa partita in primis quello della recentissima vittoria in Coppa Italia tra le due formazioni quindi una gara che in tanti avete avete visto e avete potuto ammirare qui a Conversano un grande trofeo che è tornato dopo anni di assenza quindi una partita molto sentita da entrambe le squadre soprattutto dal Cassano che naturalmente avrà una voglia di rivalza poi Antonio dicevamo i temi degli ex potrebbero essere anche una carta fondamentale in questa partita uno su tutti sicuramente Ardian Iballi dove qui a Conversano ha trascorso ben cinque stagioni con grandi successi anche una finale di scudetto raggiunta tante situazioni anche per Ardian a livello personale qui a Conversano Antonio sappiamo bene poi non dimentichiamo Ivan Scisci nativo di Conversano Luca Monciardini anche per lui una stagione qui a Conversano e anche tra le fila Biancoverdi ricordiamo Umberto Giannoccaro per lui una stagione a Cassano Magnago dunque tutto pronto palla in mano per il Conversano che effettuerà il primo attacco della partita diamo uno sguardo subito alle formazioni Antonio non ci sono novità di rilievo per il Conversano formazione tipo sì formazione tipo per il Conversano mentre per il Cassano parte dalla panchina Ardian Iballi che si è riscaldato in maniera davvero molto blanda così come Ivan Scisci probabilmente qualche problemino per entrambi i giocatori ex di turno per il resto grosso modo squadra tipo anche per il Cassano Magnago che adesso difende la prima conclusione invece se la prende il Conversano ed arriva la prima rete di Gian Valentino Rossetto che raccoglie una ribattuta sulla parata di Luca Monciardini una bella parata su Jacob Nelson prima rete per il Conversano abbastanza fortunosa però insomma era lì era giustamente sul posto Gian Valentino Rossetto che ha realizzato la prima rete della partita 1-0 Conversano adesso primo attacco per la formazione Lombarda con Fantinato Alessio Moretti la palla per Thomas Bortoli che sale dalla posizione di Ala ancora Moretti per Fantinato che si era posizionato in posizione di pivot e dunque nulla di fatto per questo primo tiro della partita di Marco Fantinato da posizione molto defilata arriva anche la prima parata di Pasqualino di Gian Domenico prima parata di Pasqualino di Gian Domenico e subito prime azioni da una parte e dall'altra con squadre molto molto organizzate con belle combinazioni proprio di squadra anche ora un bel taglio doppio pivot da parte di Marco Fantinato trovato ottimamente da Alessio Moretti il tiro era estremamente scomodo molto largo tra l'altro contro mano parato ottimamente da Pasqualino di Gian Domenico una variabile fondamentale così come lo è stato in Coppa Italia e anche la variabile portieri quindi molto importante anche il numero di parate accumulate da entrambe le parti e adesso recupera balla Cassano Magnago che riparte in seconda fase il tiro di Federico Mazza è fuori dunque Conversano può a sua volta ripartire in seconda fase Arnad Amzic qui viene fermato dalla difesa Amaranto e dunque nove metri per il Conversano sempre un a zero il punteggio quando sono trascorsi due minuti e trenta sul cronometro predica calma Ignazio De Giorgio il centrale della formazione conversanese effettua un cambio di posto con Jacob Nelson il quale porta un incrocio per Ignazio ancora De Giorgio la palla di ritorno per Nelson ancora la palla incrocio Lugo per Amzic e qui c'è la rete prima rete di Arnad Amzic al primo tiro per lui due a zero Conversano prima rete per Amzic anche qua bella rete costruita da tutto il collettivo bianco-verde che ha girato palla sui dodici tredici metri ha lanciato al tiro con diciamo una delle sue bocche da fuoco appunto Arnad Amzic ribadisco molto importante saranno le combinazioni di squadra in entrambe le parti anche la velocità di gioco quindi qualche palla persa in più ci potrà essere ma scapito di una partita molto rapida e molto dinamica diciamo così ed intanto arriva anche la prima rete del Cassano Magnago peccato perché Conversano aveva difeso molto bene aveva stretto le maglie al centro poi Jacopo Lupo forse inciampato all'ultimo minuto e si fa subito perdonare proprio Jacopo Lupo in una delle sue azioni tipiche Antonio se vogliamo in questa stagione ne abbiamo viste tante di ripartenze veloci con Jacopo che dalla difesa va a realizzare in seconda fase ricordiamo che Jacopo effettua spesso il cambio attacco difesa quindi deve approfittare di queste piccole ripartenze questi momenti di di attacco se vogliamo per lui ma sappiamo benissimo che poi mister Tarafino concede sempre ampi spazi anche per Jacopo in attacco qui non buona la difesa sempre di Jacopo ormai parliamo di lui da un paio di minuti ma l'azione si è svolta così ed è arrivata è arrivato il gol di Federico Mazza si è arrivato il gol di Federico Mazza ne vedevo invece dalla parte opposta ha provato una ripartenza in seconda fase molto rapida del Conversano ma è stato bravo Demi Stradovci a pulire un pallone che era praticamente ormai già perso da parte di Jacopo Nelson quindi ottima palla che concede una quarta fase alla squadra bianco-verde si Antonio vedevo proprio Jacopo Lupo in attacco sono stato profetico ancora il tiro di Nelson e ancora la parata di Luca Monciardini e questo è un segnale Antonio perché non è solito Jacopo Nelson diciamo sbagliare diversi tiri nel corso della partita qui siamo a quota due segno che Luca Monciardini tu un portiere che conosci molto bene Antonio ti sei allenato con lui è un ragazzo che studia studia molto Luca quindi queste due parate le abbiamo già viste diciamo anche in Coppa Italia e sono frutto dello studio della posizione sì sì esatto e sappiamo che comunque questo è uno dei tiri preferiti da parte di Jacopo Nelson questa sbracciata sul secondo palo quindi si vede si è visto chiaramente che ha fatto un passettino per anticipare il tiro è ottimamente parato mentre dalla parte opposta Moretti è andato è andato a rete con un gran tiro di polso dalla nostra postazione si è visto davvero benissimo che ha girato sul secondo palo pareggiando i conti ma non c'è un attimo di tregua dalla parte opposta sette metri per il conversano è qui Gian Valentino Rossetto se avesse segnato avrebbe fatto davvero un euro goal tiro da dietro la schiena toccato al momento del tiro in elevazione quindi a mio parere corretta la decisione arbitrale non sono altrettanto d'accordo in panchina qui la panchina del Cassano Magnaco vediamo mister Collez che ha molto da dire direttore di gara e arriva il provvedimento proprio per Davide Collez per proteste subito anche una esclusione temporanea Antonio il credo Filippo Branca giusto? sì il giocatore che era a primo in difesa quindi due minuti di esclusione per il Cassano sette metri per Conversano entra in partita Demis Radovcic prima rete per lui 4-3 Conversano e superiorità numerica e a proposito di finale di Coppa Italia che abbiamo diciamo come posso dire ricordato in precedenza Demis Radovcic e lui probabilmente la costante di questa fase ma di tutta la stagione del Conversano adesso subito realizza praticamente la sua prima palla giocabile questo tiro dei sette metri molto freddo davanti a Luca Monciardini e adesso il Conversano deve fare attenzione difende in inferiorità numerica in superiorità numerica anche se c'è il il giocatore aggiuntivo di movimento per il Cassano che gioca ottimamente questo pallone ed arriva la rete di Thomas Bortoli in inferiorità numerica Antonio giocatore che per noi addetti ai lavori non ha bisogno di presentazioni ormai ragazzo seppur giovanissimo già affermato nel diciamo nell'ambiente palamanistico italiano ormai presenza fissa anche in nazionale e qui risponde subito un altro un altro vecchietto che anche lui non ha bisogno di presentazioni due grandissimi giocatori Antonio che dire due splendidi gol da un lato e dall'altro sì belle giocate diciamo due ottimi terminali però lasciami dire Francesco sia in precedenza giocata ottimamente l'inferiorità numerica da parte del Cassano Magnago e in questo caso diciamo nell'ultima azione giocata ottimamente invece la superiorità numerica del Conversano ribadisco due squadre molto molto organizzate che diciamo meritano di essere ai vertici della serie Beretta e quest'oggi valori in campo sia collettivi che singoli si notano tutti e arriva ancora una rete in inferiorità numerica per il Cassano Magnago seconda rete di Federico Mazza qui forse si è lasciato un po' sorprendere Jakob Nelson sull'uno contro uno e quindi pareggio del Cassano Magnago che realizza due reti in inferiorità quindi un parziale di 1 a 0 2 a 1 ancora conversale in attacco De Giorgio Amzic Cassano che è rientrato con tutti gli effettivi in campo ancora Nelson Amzic ancora Nelson la palla di ritorno per De Giorgio Amzic prova il tiro Amzic e ancora qui Luca Monciardini ben appostato sul primo palo non ha avuto difficoltà a respingere questo questo tiro del giocatore bosniaco del conversano sì ancora una bella parata la terza di Luca Monciardini in poco meno di 9 minuti è in partita è assolutamente in partita Luca Monciardini notavo in precedenza che il conversano aveva difeso l'ultimo attacco in superiorità numerica in 5-1 adesso è tornato in 6-0 sappiamo come mister Tarafino vari molto queste due tipologie di difesa adesso arriva una rete da dietro la schiena da parte di Federico Mazza è un due minuti anche per Anna Adamzic si esalta la panchina del Cassano molto bene molto meglio in questo frangente del Cassano Magnago del conversano soprattutto ribadisco in termini di organizzazione offensiva eh sì Antonio conversano deve sicuramente stare molto attenta Federico Mazza questa sera perché questi frangenti è lui l'uomo sicuramente l'uomo in più per la formazione Lombarda forse forse mister Tarafino Antonio aveva aveva preparato qualcosa in più qualche chiusura in più su Alessio Moretti che sicuramente è il giocatore più esperto anche più di classe diciamo della formazione a Maranto però questa sera Federico Mazza sta davvero facendo gli straordinari ancora conversano Rossetto l'incrocio per Lupo il tiro di Jacopo e qui toglie un po' le castagne e dal fuoco Jacopo Lupo in situazione di inferiorità numerica ottima rete di Jacopo ottima rete di Jacopo ma molto bene anche Umberto Giannoccaro in posizione di pivot che ha bloccato su di sé un paio di elementi ma anche in questo caso c'era stata una bella combinazione del conversano in attacco e era scivolato anche benissimo il Cassano Magniago diciamo in modo da sopperire da assorbire l'inferiorità numerica della squadra ospite ma adesso il conversano deve soffrire deve stringere i denti perché è uno in meno in difesa ancora 46 secondi con un uomo in meno conversano perde palla Cassano Magniago questo passaggio Fantinato D'Orio non è riuscito il pivot ad agguantare questo pallone quindi conversano ha una ghiotta possibilità di gestire questi ultimi 25 secondi di inferiorità numerica in attacco 11 minuti del primo tempo De Giorgio ancora Radovcic la palla di ritorno per De Giorgio è peccato era quasi riuscito lo schema ma è stato bravo Filippo Branca a chiudere le maglie difensive Nelson ancora Jacopo Lupo l'uno contro uno su Alessio Moretti viene fermato Jacopo conversano che ha portato nuovamente in campo Pasqualino De Giorgio prima eravamo con l'extra player qui bel passaggio di Nelson per Umberto Giannoccaro che bel lavoro di Umberto Giannoccaro qui su questa difesa strettissima è un grande gol da pivot questo Antonio esatto grande gol da pivot dopo un paio di azioni dove aveva giocato per i propri compagni adesso si è messo in proprio prima si è tenuto a distanza il proprio marcatore diretto se non sbaglio era Dorio e poi ha trafitto molto bene sul primo palo Luca Monciardini azione preparata davvero in maniera magistrale da parte del conversano è conclusa altrettanto bene dal proprio pivot capitano adesso tornate in parità numerica le squadre è anche tornata la difesa solita questa 6-0 molto molto profonda da parte del conversano con questa uscita e palla persa che inducono la palla persa della squadra avversaria eh sì 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 molto bene molto bene la difesa del conversano Amzic palla per Nelson ancora 1-1 su Mazza ancora Nelson Amzic Jacopo Lupo prova a inserirsi tutto solo Jacopo Lupo questa volta viene fermato da Fantinato e quindi ci sono secondi di tempo per il cambio in attacco con Ignacio De Giorgio che riprende la posizione di centrale chiama lo schema De Giorgio è tornato Amzic in posizione di terzino sinistro dialoga con Nelson ancora Ignazio De Giorgio perde palla qui Ignazio brutta palapessa del conversano ancora Federico Mazza prova a spingere la seconda fase del Cassano Vaniago viene fermato da Rossetto c'è un 9 metri per il Cassano e quindi l'interruzione del gioco permette anche ad Ignacio De Giorgio di effettuare il cambio abbiamo visto un arrabbiatissimo Pino Fanelli Antonio per questa mancata sostituzione si chiedevo un cambio un cambio un po' più rapido ad Ignacio De Giorgio ancora volevo sottolineare un'ottima difesa invece in precedenza da parte del Cassano si perché c'è stata la palla persa del conversano ma come si è arrivati alla palla persa con queste dissuazioni difesa molto profonda molto aggressiva a disturbare la squadra avversaria adesso si prende un tiro diciamo veletario Marco Fantinato dalla parte opposta quindi agevole invece il ruolo da parte della difesa del conversano e si resta sul 7-6 7-6 partita molto bella molto combattuta qui al Pala San Giacomo sta rispettando quelle che erano le aspettative Antonio davvero come dicevi in precedenza anche a mio parere sono le due squadre che esprimono la miglior palamano in questo momento in Italia il conversano di mister Tarafino e il cassano di Davide Colez due collettivi davvero ben costruiti sicuramente in estate da parte delle dirigenze ma poi diciamo il campo e le varie partite effettuate nel corso della stagione Antonio hanno permesso di affinare quantomeno per il conversano quella che sin ad ora è diciamo una squadra quasi quasi perfetta perché due titoli sino a questo momento e siamo in corsa naturalmente per un terzo ma noi adesso non ci pensiamo pensiamo a questa partita di stasera 7-6 il punteggio con il cassano in seconda fase Mattia Dorio realizza la sua prima rete e porta in parità il cassano Magnaio ancora Nelson per Giannocaro qui placato da tre persone Umberto Giannocaro e credo che ci sarà sicuramente una sanzione disciplinare ed infatti arrivano i due minuti per Mattia Dorio Antonio qui a mio parere non deve protestare la difesa del cassano perché Mattia Dorio ha cinturato Umberto Giannocaro però la sanzione arriva anche per Umberto Giannocaro forse per proteste sì sinceramente diciamo non capisco questa sanzione però probabilmente al difensore difensore Reo appunto di questa cintura che dicevi tu in questo caso solitamente i giocatori i compagni del difensore dovrebbero aiutare la difesa per far per evitare il due minuti probabilmente sì qualche parola di troppo per Giannocaro fatto sta che due minuti ad entrambe le squadre pareggio partita assolutamente equilibratissima e Francesco davvero molto bella perché c'è tutto c'è tattica c'è tecnica ci sono individualità c'è velocità davvero una partita molto molto interessante tra l'altro non l'abbiamo detto in precedenza ma il Conversano l'unica gara che ha perso quest'anno l'ha persa dicevi giustamente tu il campionato è stato quasi perfetto perché l'unica sconfitta è arrivata a Cassano Magniago segno di come davvero queste due squadre siano estremamente estremamente diciamo equilibrati i valori in campo e qui arriva una rete del Cassano Magniago con Alessio Moretti terza rete per lui una rete a porta vuota perché Conversano aveva effettuato il cambio del portiere data l'inferiorità numerica e purtroppo Antonio sono i rischi di questa azione l'abbiamo detto tante volte può portare ad una situazione di superiorità però poi se sbagli palla in attacco è facile per la difesa andare in gol e qui adesso vediamo un effetto positivo dell'extra player con Ignazio De Giorgio che si inserisce e va a realizzare la sua prima rete otto pari e questa è un'altra bella azione da parte del Conversano queste sono le azioni che gli allenatori ritagliano in settimana per mostrare ai propri giocatori per studiarli avversari perché è stata una combinazione ottimamente seguita il cambio effettuato da Valentino Rossetto e il gioco si è svolto sulla parte sinistra dell'attacco del Conversano e ha liberato al tiro Ignazio De Giorgio bella rete riporta tutto in parità così come sono ancora in parità gli uomini in campo adesso Cassano con un uomo in più perché è uscito Luca Monciardini segna un'azione di passivo ancora Mazza che ha scalato per l'ala sinistra che invece era uscita per effettuare il cambio col portiere quindi diciamo un errore a testa tra Conversano e Cassano in queste situazioni di extra player intanto il gol di Giampaolo Sciorci sì Antonio io mi sono fermato a vedere il cambio non ho visto questa azione che dire Francesco questi sono i colpi alla Demis Radovic perché sicuramente il gol al tabellino va a Giampaolo Sciorci però il passaggio illuminante ribadisco non vedo molti giocatori in Italia che vedono questa tipologia di passaggio davvero contro tempo contro attenzione di tutta la difesa davvero una una giocata non solo importante ma anche davvero bella davvero bella da vedere e che riporta in vantaggio il Conversano ed ancora qui una bella giocata di Federico Mazza quarta rete per lui nove pari il punteggio partita combattutissima molto bella qui al Palas San Giacomo peccato naturalmente Antonio per l'assenza di pubblico immaginiamo il il delirio che sarebbe stato qui al Palas San Giacomo noi come sempre cogliamo l'occasione per salutare tutti i nostri tifosi e tutti coloro che ci seguono sul portale Eleven Sports naturalmente sia tifosi di Conversano ma salutiamo anche tutti gli appassionati di Cassano Magnago ancora Conversano Jacopo Lupo De Giorgio ancora De Giorgio la palla per Jacopo Lupo la palla di ritorno per De Giorgio Nelson la scalata per Rossetto non ci sono spazi Conversano in doppio pivot con Radovcic e Nelson si inventa questo passaggio di ritorno per Rossetto che a sua volta realizza un gol tanto difficile quanto importante aveva difeso ottimamente ancora una volta il Cassano ma il Conversano si è andato a prendere ottimamente questa rete perché non c'erano spazi è arrivato questo passaggio largo di Nelson per Valentino Rossetto decima rete del Conversano che bella partita Francesco davvero una partita molto molto bella da entrambe le parti ancora Cassano Fantinato realizza Marco Fantinato Antonio e c'è qualche problemino da quel lato che mister Terafino dovrà cercare di risolvere adesso nella pausa tra primo e secondo tempo intanto Amzic qui si prende una responsabilità il tiro non era male però è finito fuori quindi ancora parità dieci pari il punteggio sempre difesa 6-0 molto aggressiva dalla parte del Conversano tuttavia Antonio Cassano riesce comunque quasi sempre a trovare lo spazio si sta riuscendo ad allargare dicevi bene in precedenza soprattutto dalla parte destra del proprio attacco l'azione con questa diciamo con questa giocata di Moretti che attira a sé molti uomini e lascia spazio per i propri compagni in precedenza Fantinato e Mazzano realizzato e il Conversano deve correre ripari in questa difesa sta difendendo molto meglio di squadra passivo e palla persa tiro alle stelle del Cassano qui è arrivata davvero un'ottima difesa da parte del Conversano ottima ottima difesa del Conversano ancora Hamzic per Siorci sulla seconda fase del Conversano guadagna un 7 metri e 2 minuti Gianpaolo Siorci che ritmi Antonio davvero questa sera bellissima partita molto corretta direi Antonio anche al discapito di qualche esclusione temporanea giocatori in campo che si rispettano c'è molta amicizia anche tra le due squadre noi lo sappiamo bene perché conosciamo anche diversi giocatori della squadra avversaria quindi davvero in questi casi è sempre un bello spettacolo assistere a queste partite assolutamente assolutamente quando le partite sono corrette maschie ma corrette a noi ci piacciono e a noi piacciono così come a tutti gli spettatori ma adesso la cosa importante è che il Conversano ha conquistato un 7 metri e anche la superiorità numerica penso che gli arbitri abbiano visto un colpo al volto al collo di Bortoli su Gianpaolo Siorci tra l'altro i due compagni di Nazionale Under 21 quindi anche amici fuori dal campo fatto stacca e dai 7 metri va sempre lui il giocatore con la maglia numero 26 ancora Radovcic contro Monciardini il tiro va in gol ma con un pochino di fortuna questa volta per Demis Radovcic infatti vediamo che si dispera Luca Monciardini perché l'aveva toccata onore onore al merito l'onore a Luca Monciardini aveva quasi toccata questo questo sette metri di Demis Radovcic comunque fortuna del conversano e di Demis la palla è entrata in gol quindi 11-10 prima rete in superiorità numerica sempre extra player quindi porta vuota per il Cassano Fantinato mazza e arriva credo anche la parata di Pasqualino probabilmente su questo tiro non abbiamo visto comunque c'era c'era Pasqualino si era abbassato bene riceve come sempre le indicazioni di Leonardo Lopasso allenatore dei portieri del conversano e della nazionale maschile davvero un ottimo lavoro per l'Eolopasso quest'anno con i due portieri anzi con i tre portieri se vogliamo con Ale Di Caro con Scarcelli anche con te Antonio un po' ogni tanto ti alleni quindi onore al merito torniamo in campo in diretta dal Palo San Giacomo Nelson Amzic il tiro di Amzic è qui una bella azione di Arnald Amzic peccato sfortunato in questa occasione colpisce il Palo si Palo di Amzic intanto rettifico in precedenza avevo detto due minuti per Bortoli invece è arrivato il due minuti su di Dorio che è il secondo due minuti per Dorio quindi diciamo sulla testa del difensore del centro dietro e pivot del Cassano pesa già la doppia esclusione temporanea in 22 minuti quindi dovrà fare molta attenzione in quest'ultima diciamo in quest'ultima azione invece il Conversano ha giocato molto bene è arrivato a un buon tiro anche Amzic sfortunato peccato perché sulla ribattuta poteva essere più convinto sia Gianpaolo Sciorci sia i suoi compagni fatto sta che la palla torna nelle mani del Cassano ancora Cassano con Moretti il tiro di Moretti realizza Alessio Moretti la sua quarta rete non un'ottima copertura qui di Gianpaolo Sciorci su Alessio Moretti diciamo che ha coperto bene ma il braccio era libero e come tu mi insegni Antonio giocatori di un certo livello come Alessio Moretti se il braccio è libero riescono comunque a trovare la soluzione ed è arrivata la rete del pareggio Nelson fa salire Rossetto Amzic il tiro di Amzic e questa è davvero un'ottima conclusione si riprende quello che aveva lasciato nel tiro precedente questa volta la spedisce all'incrocio dei pali seconda rete per Amzic e bella rete ancora da parte di Amzic questa è una rete da terzino puro diciamo incrociata quando risale dalla parte opposta ottima realizzazione analizzavo un dato qui sul mio monitor che il Cassano due volte in inferiorità numerica se ne uscita con un parziale entrambe le volte di 1 a 0 segno di come la squadra del Amaranto sia riuscita a sopperire addirittura in vantaggio nei break l'inferiorità numerica segno davvero di molta organizzazione ma adesso il conversano nell'ultime difese diciamo vantaggi nei break a parte sembra anche un po' aver alzato il ritmo difensivo e ne ha veramente bisogno se vuole portare a casa questo match dici bene vediamo questa chiusura molto efficace di Lupo Cassano sotto passivo bene anche Giampaolo Sciorci su Federico Mazza sempre passivo i signori Cardone segnalano due passaggi il tiro di Moretti la parata di Pasqualino di Giandomenico bravo Pasqualino questa volta il tiro è avvenuto da ampia distanza quindi quasi si scusate dialogavo con la regia time out time out chiesto da Alessandro Tarafino grazie a tutti Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Esatto, questa volta potrebbe essere frutto del caso, in realtà non lo è mai perché ha coperto esattamente la linea di passaggio più probabile. Era stato comunque bravo a tutta la difesa del Conversano, tutti gli effettivi a chiudere le linee di passaggio per Moretti che era in precario equilibrio, era praticamente a terra. Palla recuperata e ottimamente realizzata da Nelson, prima rete e quale momento migliore se non questo per realizzare la sua prima rete? Ancora Mazza, la palla per Dorio, non riesce il passaggio di Gian Domenico, prova a lanciare Gian Paolo Sciorci e qui ci sono... Dicevo c'erano un po' di imprecazioni della panchina conversanese per questo lancio del contropiede, forse non era la soluzione migliore in quanto Cassano... Cassano, Antonio è una squadra che corre molto e quindi torna velocemente in difesa ed infatti è riuscita ad intercettare questo pallone. Comunque Conversano che piazza un primissimo mini break di più due, 13-11. Sì, un primissimo... non lo chiamerei neanche mini break perché non sono niente due reti, tra l'altro diventa una. Sarebbe stato un mini break realizzando in precedenza la palla persa ma non fa nulla, bisogna giocare punto a punto oggi una partita... Difficilmente avremo dei break di diverse reti di vantaggio, quindi bisogna giocarla così, punto a punto. Adesso è arrivata molto bene la rete da parte di Branca, la sua prima rete quest'oggi. E il Cassano è là, il Cassano con le sue armi se la gioca, veloce, velocità, ottima difesa, molto organizzata. Sembra anche molte volte prevedere in anticipo le mosse del Conversano, segno davvero che c'è tanto studio da parte del Cassano Magnago, ma c'è altrettanto studio anche da parte del Conversano, quindi è anche per certi versi una partita a scacchi tra i due tecnici quest'oggi. Sì, 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 Antonio, dici bene, conosciamo bene i due tecnici, sono quasi maniacali nella preparazione delle partite e i risultati si vedono, si vede in campo, si vedono due squadre molto ben organizzate, una bellissima palla a mano qui al Palazzo San Giacomo. Nel sol incrocio per Amzic, va dentro Amzic, qui ci sono sicuramente, infatti, stavo per dirlo, i sette metri. E ancora una volta, Antonio, qui un'ottima azione organizzata del Conversano, porta il giocatore al tiro, quasi in maniera semplice, ma semplice sai benissimo che non lo è. Sì, era arrivato, probabilmente potrebbe prendersi anche un tiro prima dell'ultimo passo Amzic, ma il lavoro maggiore in questo caso l'ha fatto Jakob Nelson, che si è portato a tratto a sé diversi giocatori della difesa del Cassano, quindi tanto spazio per il Conversano, sette metri. E Radovcic, ce lo commenti tu questa volta? Eh sì, il Cassano ha sostituito il portiere, è cambiato, è tentato in campo Ivan Ilic, ma questa mossa certamente non ha pensierito Demis Radovcic, che ha comunque effettuato uno dei suoi colpi migliori, anche dalla linea dei sette metri. Quindi Conversano torna più due, 14-12, qui recupera a balla Valentino Rossetto, ottima difesa del Conversano, qui c'è un'azione importante sul finire del primo tempo, Conversano ha la palla del più tre, vediamo l'incrocio di Nelson per Amzic, ancora Amzic, prova uno scavalcamento, segnalazione di passi, ma i direttori di gara forse non si sono accorti che Amzic aveva paleggiato. Comunque Cassano punisce questa leggerezza, quindi non c'è il più tre, ma c'è il meno uno. Dunque 14-13, rete di Thomas Bortoli, che non perdona Antonio, come un veterano davvero. Sì, mi era sembrato che avesse paleggiato in tempo Amzic, quindi che non avesse commesso queste infrazioni, non sono del nostro avviso gli arbitri e hanno sempre ragione loro, quindi bisogna dare atto a questo. Molto bravo invece il Cassano-Maniago a ribaltare in maniera fulminea l'azione e a rubare questa rete. Ci prova dalla parte opposta a Nelson, un tiro molto sporco, disturbato, il Cassano chiuderà il tempo per pareggiare, quindi ha avuto un minuto fa la palla del più tre, il Conversano, il Cassano potrebbe annullare del tutto questo mini-break, che non è un mini-break, questo piccolo vantaggio alla fine del primo tempo. E dunque per gestire al meglio questi ultimi 22 secondi di primo tempo, Mr. Coletz chiama time-out. Grazie. 29.38 sul cronometro, ultimi 22 secondi del primo tempo tra Conversano e Cassano-Maniago. Conversano è passato in 5-1 dopo questo time-out, Antonio. Vediamo che azione, quale schema avrà chiamato Davide Coletz. Si inserisce in doppio pivot Cassano, mazza la palla proprio per Fantinato, chiude bene Valentino Rossetto. Nulla di fatto in questa azione organizzata, ci sarà, credo, un tiro franco, perché è avvenuto un fallo proprio allo scadere, l'ultimo secondo. Comunque, ottima azione Antonio, in difesa anche di Mr. Terafino, che ha subito cambiato la difesa e ha costretto Mr. Coletz a cambiare i piani. Sì, sì, ma adesso ti l'ha lasciato il commento del tiro franco. Sì, assistiamo all'ultimo, l'ultimo tiro del primo tempo con Moretti, che è giustamente da posizione molto, molto defilata. Lascia scorrere il pallone, lo consegna nelle mani di Pasqualino di Giardomenico. Anche una leggera risata tra i giocatori. Antonio, segnale che c'è un bel clima in campo, una bellissima partita. Alla fine la spunterà sicuramente la squadra che avrà più fortuna o comunque quella bravura per vincerla. Però, a mio parere, vediamo delle bellissime squadre in campo. Sì, sì, assolutamente, lo confermo. Due ottime squadre, tanta organizzazione, tanta velocità. Belle individualità, ma secondo me, Francesco, che sono esaltate dal collettivo. Cioè, sono i collettivi che esaltano le proprie individualità. Quindi, partita equilibrata, tutta da vivere nel secondo tempo. Ed allora, appuntamento tra dieci minuti circa per il secondo tempo di Conversano Cassano Magnago. Grazie. 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 Amici sportivi, ben ritrovati dal Palà San Giacomo di Conversano. 14-13 il punteggio in favore del Conversano è iniziato il secondo tempo tra Conversano e Cassano Magnago a mio fianco sempre Antonio Luciano in postazione di commento Massimiliano Fanelli alla regia e Andrea Ingrassia alle riprese ancora Cassano in attacco sempre Mazza la palla per Moretti la difesa di Giannoccaro ancora Alessio Moretti si libera della marcatura fa salire Fantinato la palla per Mazza il tiro di Mazza è ancora la rete di Federico Mazza quinta rete per lui ottima prestazione di Federico Mazza questa sera al Palazzo San Giacomo e dunque parità 14 pari sì Federico Mazza vede Palazzo San Giacomo e si esalta ricordo una partita col Colondi un paio di anni fa strepitosa da parte sua anche quest'oggi si sta confermando difesa un po' leggera da parte del Conversano che è sceso in campo non subito pronto è arrivato a questa conclusione che ha trovato impreparato Pasquani di Giandomenico subito attacco dalla parte opposta e lascio il commento a te azione un po' convusa del Conversano permette al Cassano di ripartire in seconda fase la scalata di Moretti per Bassanese non riesce, viene fischiato uno sfondo proprio ad Alessio Moretti quindi Conversano può ripartire ancora con Amzic la scalata di Amzic perde Giorgio che a sua volta scala per Demis Radovcic è il finale non ve lo racconto nemmeno perché lo potete immaginare sì questo è il suo tiro ma questa volta dalla nostra postazione si è visto in una maniera clamorosa è sceso ha colpito i due incroci verdi che sono l'incrocio dei pali della porta delle porte di Conversano grandissima rete davvero un'esecuzione tutta tecnica da parte di Demis Radovcic ottima palla diciamo anche servita da Ignazio De Giorgio dietro la schiena bellissima combinazione tra i due e qui un ottimo sfondo guadagnato da Amzic proprio su un mazza Conversano riparte in seconda fase Amzic ci mette un palleggio di troppo che permette alla difesa di sistemarsi e quindi buona difesa del Cassano qui ci ha messo un palleggio in più Anna Damzic e ha rallentato questa azione veloce intanto si scalda Antonio anche l'allenatore in campo Demis Radovcic adesso lo vediamo inizia a gestire i suoi dall'angolo si scalda per la verità anche l'allenatore in panchina Davide Akolez perché lo vedevo stava contestando gli ultimi due sfondi fischiati al Conversano diciamo in favore del Conversano credo che il secondo ci fosse il primo sul primo per quanto mi riguarda c'è qualche dubbio fatto sta che adesso la palla ancora nelle mani del Conversano e c'è qualche scaramuccia lì al centro della difesa ma tutto assolutamente nella norma segnalazione di passivo De Giorgio l'incrocio per Rossetto qui brutta palla perde palla Rossetto non si intende con Jacopo Lupo ancora Moretti mazza Moretti il tiro di Moretti eh no no Antonio questa è una bruttissima gestione da parte del Conversano davvero Alessio Moretti non gli puoi lasciare tutto quello spazio per il tiro soprattutto senza fallo senza una mano addosso Alessio Moretti è poi per il portiere quasi impossibile parare sì avvolgo leggermente il naso perché il il passivo in precedenza del Conversano non era stato gestito bene non ha ripiegato allo stesso modo bene il Conversano il Cassano è stato lesto nel girare palla e trovare in Cassano Magnago Alessio Moretti la bocca da fuoco migliore per trafiggere il trafiggere di Gian Domenico ma dalla parte opposta anche grande rete di Jacopo Lupo ma ancora tanti meriti a Umberto Giannoccaro gran blocco per lui su Alessio Moretti in questo caso era stato Valentino Rossetto che aveva portato un ottimo incrocio incrocio sì sì su Jacopo poi era rimasto in posizione di pivot quindi ha fatto un ottimo blocco già Valentino Rossetto Conversano torna più uno sedici quindici Fantinato tutto solo l'uno contro uno su Jacopo seconda rete anche per Fantinato è un botta e risposta Antonio è una partita che va così oggi punto a punto De Giorgio riorganizza l'azione ci vuole calma ci vuole tanta tanta accortezza per arrivare al tiro questa sera non ci sono non c'è spazio per particolari iniziative personali per scardinare le difese qui Umberto Giannoccaro al tiro viene giudicata regolare l'azione del Cassano ancora Fantinato e qui chiude alla grande Pasqualino Di Giandomenico che è partita signore due belle parate da una parte e dall'altra sia di Monciardini e di Di Giandomenico che inchiodano ancora il risultato sul pareggio sedici pari adesso la palla è nelle mani del Cassano però il Conversano passa nuovamente in 5-1 ma questa volta l'interprete il centroavanti è cambiato cioè Ignazio De Giorgio il tiro di Mazza ma dove l'ha messa Antonio che gol Federico Mazza se per i primi minuti forse poteva essere una sorpresa ma dopo questa partita assolutamente nulla da dire per questi per questi gol di Federico Mazza infatti anche Pasqualino non ha non ha parole si confronta con Leo Lopasso ma davvero se il giocatore la mette lì Antonio c'è poco da fare sì sì assolutamente poco da fare Marco Conversano risponde ottimamente con Gian Valentino Rossetto questa volta da pivot terza rete per lui io davvero vorrei che tutti i tifosi potessero sentire il clima davvero che c'è qui al Palazzo San Giacomo ci sono grida urla in panchina come se ci fossero mille spettatori segno che la partita è davvero molto molto sentita qui la volante che non impensierisce Radovcic che l'aveva capita più o meno da una mezz'oretta fa ancora Amzic va al tiro Amzic colpisce la traversa sfortunato ancora Amzic Moretti Fantinato l'uno contro l'uno su Giannoccaro Nelson la difesa in anticipo di Jakob Nelson 17 pari avvicendamento tra Dorio e Lamedola sempre difesa o meglio torna in 6-0 con Versano dopo qualche esperimento in 5-1 17 pari esce Lamedola Fantinato l'uno contro uno sul lupo perde palla il Cassano bene bene difesa del Conversano sì la bontà di entrambe le difese sottolineata dalle parate e dalle palle perse delle rispettive squadre perché davvero c'è le difese in questa fase soprattutto le match stanno prevalendo sugli attacchi proprio di studio di tattica entrambe le squadre anticipano la giocata della squadra avversaria molto bene partita davvero molto molto bella Francesco oltre l'equilibrio del punteggio anche equilibrio probabilmente di valori tecnico-tattici in campo ancora nove metri per Conversano Giannoccaro Nelson qui è un bruttissimo errore bruttissimo errore forse si è messo anche l'arbitro Antonio di mezzo a impedire ad Ignazio di vedere questa palla peccato peccato perché in queste partite gli episodi sono sempre fondamentali quindi bisogna limitare al massimo gli errori soprattutto quelli banali come questo sta di fatto che Cassano torna in attacco qui c'è una soluzione tattica anche per mister Coles Bortoli è passato in posizione di terzino destro con Saitta alla destra Thomas Bortoli lo ricordiamo anche in nazionale ha quasi sperimentato questo nuovo ruolo di terzino destro che sta dando sicuramente i suoi frutti giocatore giovanissimo Thomas Bortoli Antonio vuoi dire classe 2002 classe 2002 intanto l'ottima parata di Pasqualino di Giandomenico sul tiro di Lamentola parata importantissima di Pasqualino di Giandomenico e si carica il portiere Terramano del Conversano c'è fibrillazione Antonio sulle panchine vediamo tantissimo movimento sia su quello del Conversano sia su quello del Cassano praticamente il commissario è quasi sempre in piedi e si si è il nervosismo che assolutamente ci sta quest'oggi una partita importante per fortuna la sblocca il glaciale lo svedese Jakob Nelson occhi di ghiaccio Jakob Nelson qui Antonio recepiamo un commento che poi più che un commento era anche un suggerimento tattico sì sì perché Jakob Nelson ha cambiato il tiro quindi questa volta coglie impreparato Luca Monciardini che comunque sta disputando un'ottima partita l'ex sportire del Conversano qui l'inserimento di Bassanese ottimamente servito da Federico Mazza ma ancora che parata di Pasqualino di Gian Domenico sì ho leggiato la difesa del Conversano in precedenza questa volta piccola dormita da parte di Rosso e Valentino Rossetto che hanno consentito questo taglio adesso team out per rifletterci su per Davide Colez grazie grazie si torna in campo sul 18-17 in favore del Conversano 12 minuti sul cronometro di questo secondo tempo al Palazzo San Giacomo quinta giornata di ritorno della Serie A Beretta Moretti Lamendola Thomas Bortoli Federico Mazza l'incrocio per Moretti ancora Bortoli punta Giannoccaro la scala per Moretti ancora la parata di Pasqualino di Gian Domenico Demis Radovici subito per Rossetto e si lascia sfuggire questa girella Valentino Rossetto che non sortisce l'effetto sperato poi è bravo a tornare in difesa Rossetto e non riesce ad effettuare il cambio quindi si ferma in centroavanti ora Mazza qui bravissimo che dire Antonio bravissimo Federico Mazza a sfruttare questa ingenuità di Valentino Rossetto che è andato a spostarsi sulla sua posizione di primo naturale ma ha lasciato scopertissimo il centro e quindi Federico Mazza ha approfittato sì stavo elogiando proprio il ritorno rapido nonostante l'errore di Rossetto in precedenza è un po' meno bravo perché a quel punto doveva restare in 5-1 e questa giocata il fatto di tornare diciamo sulla linea dei 6 metri ha scoperto la difesa adesso ancora palla persa del Conversano ma ribadisco e bisogna fare molta attenzione a questo Cassano perché la squadra è molto ben messa in campo poi c'è Federico Mazza in condizioni ottimali quindi partita davvero tutta da vivere questi poco più di 15 minuti al termine 18 pari grandissimo equilibrio in campo formazioni che stanno dando vita a una bellissima partita ancora Cassano Moretti per Bortoli il tiro di Moretti e che gol ancora un gol di Alessio Moretti ma Antonio permettimi di dire che un giocatore come Moretti si sa che il suo punto forte è il tiro non può essere lasciato tutto solo seppur da distanza molto molto lontana ci pensa comunque Arna Damzic a togliere le castagne a riportare in parità il Conversano 19 pari sì sì perché troppo passivi sui tiratori adesso ancora disattenzione e 7 metri 7 metri che ci può stare questa è una disattenzione di Umberto Giannoccro che stava uscendo e poi viene anche forse viene anche un po' graziato perché ci potrebbero stare i due minuti perché nel primo tempo c'è stata un'azione simile punita con il due minuti bravo il Cassano ha in queste ultime due azioni a diciamo a sfruttare le disattenzioni della difesa conversanese e rimette la testa avanti più uno Cassano 20-19 è puntuale arriva il time out di mister Tarafino un minuto di pausa per noi grazie a tutti Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grande parata di Luca Monciardini, a dire di no ad Umberto Giannoccaro. Grande parata però, questi palloni da Umberto ci aspettiamo che proprio per il peso specifico del pallone vadano dentro. Di certo è arrivata la bella parata di Monciardini. Peccato perché il conversano aveva costruito ottimamente questa azione offensiva, ma adesso palla per il Cassano che ha l'opportunità di andare sul più due, che in questo secondo tempo non si è ancora visto da entrambe le parti. Ma quanta esperienza in questa giocata di Demis Radovicic. Questa è tutta giocata, tutta esperienza di Demis Radovicic. Io, Antonio, lo sai, ho un debole per questo giocatore, ma è davvero una giocata, come diciamo sempre, non è la giocata. E quando viene fatta la giocata, questo era il momento in cui serviva la giocata, Demis l'ha fatta. Se vogliamo spendere invece una parola per il Cassano, non me ne vorranno i tifosi lombardi, ma questa è invece una giocata che Mr. Collins non doveva fare per la sua squadra, perché questo due minuti per lui, quindi purtroppo per il Cassano, significa un giocatore in meno in un momento cruciale della partita. Può approfittarne dunque Conversano con un uomo in più per due minuti, Nelson, incrocio per Lupo, la palla per De Giorgio, che la scarica per Giampaolo Sciorci, ma c'è una incredibile difesa in aria, non fischiata dai direttori di gara. Ancora Conversano in attacco, Nelson, la palla di ritorno per De Giorgio, prova a fare tutto da solo, Ignazio, e ancora la parata di Luca Monciardini, recupera la palla Conversano, momenti di confusione. Momenti di confusione, si arrabbia tantissimo Demis Radovcic, ancora un minuto e dieci di superiorità per Conversano, ancora una chance per il tiro, Nelson, la palla per Ignazio e De Giorgio, che scarica per Radovcic. E qui arriva l'errore di Demis Radovcic. Non ci voleva, non ci voleva questo errore di Demis, Conversano deve stringersi, deve trovare la lucidità, la concentrazione, perché il tempo c'è assolutamente, mancano ancora dodici minuti al termine. Tuttavia, bisogna sfruttare meglio questa superiorità che sta per finire, mancano 30 secondi con il Cassano in attacco. Sì, alcune volte diciamo sembra un controsenso, però tirare così libero, ha tirato davvero senza alcuna pressione, come se ti scarica mentalmente, ha pagato questa cosa Demis Radovcic, che ha sbagliato il tiro. Adesso arriva dalla parte opposta, la splendida rete di Pasqualino di Giandomenico, molto molto bravo, è freddissimo Francesco. Lo diciamo sempre, la porta è libera, ma non è assolutamente facile da tirare da porta a porta. Eltonio non è assolutamente facile tirare in questo momento, sul 20-19, quando mancano dodici minuti al termine, trovare questo tiro. Che freddezza per Pasqualino, complimenti a Pasqualino, ma davvero, dicevamo qui anche in impostazione, cosa sarebbe successo se l'avesse sbagliato? Non lo vogliamo immaginare. Comunque, buono così, buono così per il Conversano, 20 pari, 6 secondi di superiorità che termineranno tra qualche istante, quindi il Cassano potrà gestire quest'azione in parità numerica ed infatti rientra in campo Luca Monciardini. Diciamo che ha limitato tantissimo i danni, mister Collez, perché questa superiorità in quel momento poteva essere fondamentale. Ancora interruzione del gioco, ancora il commissario protagonista per segnalare una munizione per mister Tarafino. Una sottigliezza, lasciami dire Francesco, ha visto un secondo elemento in piedi, in panchina, il signore al tavolo, ha ammonito la panchina, il commissario di campo, ha ammonito la panchina conversanese. Nulla di fatto, Francesco, non cambia nulla. Torniamo in diretta, Antonio, a noi piace commentare la pala a mano giocata in questi episodi da tavolo. Ancora Moretti, bene la difesa di Giampaolo Sciosci, recupera la palla a Radovcic, la scarica per Valentino Rossetto, tutto solo Valentino Rossetto! E realizza la rete del più uno. Antonio, questa l'ho commentata proprio all'Argentina, diciamo. Anche qua, rete di Valentino Rossetto, ma quanti meriti diamo a Giampaolo Sciorci? Ha recuperato palla ottimamente, ottimamente con queste due braccia che sono di un metro l'uno, veramente molto, molto bravo Giampaolo. Palla recuperata ottimamente e rete di Valentino Rossetto, freddissimo. Il Conversano rimette la testa avanti. Conversano che ha recuperato lo svantaggio ed è andato a più uno. Ottimo segnale, ottimo segnale di concentrazione, di lucidità dei ragazzi di Tarafino. 21 pari, scusate, 21-20 in favore del Conversano. 20 minuti sul cronometro, volevo dire. Ancora Bortoli si inserisce, ottima la difesa qui di Giampaolo e Ignazio. Non sono di questo avviso i direttori di gara che segnalano un sette metri. Non so Antonio, ci poteva stare questo sette metri perché forse Giampaolo ha spinto un po' in corsa a Bortoli. In realtà doveva chiudere prima Ignazio. Sì, sta mimando proprio il gesto Alessandro Tarafino in panchina con tutta la sua lucidità. Doveva accompagnarlo invece a spinta laterale, sette metri e due minuti, giusto. Entrato alle di caro contro Alessio Moretti. Ma anche Alessio Moretti è un giocatore esperto. Non si lascia intimidire dal cambio di portiere. e scarica una sassata sotto l'incrocio. 21 pari con Bersano con un uomo in meno. Per i due minuti a Giampaolo Sciorci. Momenti fondamentali della partita. Radovcic per la scalata di De Giorgio, per Rossetto. Recupera palla il Cassano. Ma che ingenuità qui Antonio. Che ingenuità Antonio. Immagino i tifosi del Cassano che in questo momento saranno saltati da sul divano per questo errore. Sì, forzatura clamorosa di Federico Mazza che fino ad ora aveva melogiato ma qua ha buttato palla per la propria squadra. Consente un altro attacco al Conversano che però attacca ancora in inferiorità numerica. Ancora con Vessano, De Giorgio, lupo. De Giorgio, l'incrocio per Nelson. Non ci sono spazi. Nelson è fuori mano. Segnalazione di passivo. Prova ad andare Jacopo. Guadagna un 9 metri. Preziosissimo. Il tiro di Nelson e c'è il gol. E questo è Jacopo e Nelson che siamo abituati a vedere, Antonio. La mette lì quando serve. Sì, grandissima. Bella rete importante. Soprattutto importante. Davvero molto molto importante. Dalla parte opposta. Parata fondamentale di Pasqualino di Giandomenico. e adesso si gioca su questo, sulla rabbia, sugli episodi. Molto molto importante la rete in precedenza sul passivo. Così come anche questa parata. Bisogna fare attenzione, giocare con lucidità. Un Conversano un po' disordinato in questa fase del match. Anche il Cassano non sta giocando al massimo della propria lucidità. Quindi si sente che c'è tensione in campo. Ancora Amzic. Nelson, uno contro uno. La palla di ritorno per Amzic. Non ci sono spazi. La palla torna per De Giorgio. Ma è subito passivo. Incredibilmente. Subito passivo. Ma ci pensa ancora lui. Direttamente dai ghiacci, Antonio, della Svezia. Jakob Nelson. Ancora Moretti. Buona la difesa di Giampaolo Sciosci. Sale Saitta. Viene chiuso anche Saitta. Qui una difesa di Giampaolo un po' al limite, Antonio, del regolamento. Lo sa, lo sa anche Giampaolo. Infatti cerca di evitare lo sguardo dei direttori di gara. Comunque, time out chiesto da Davide Colez. Quasi Katia. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Eh sì, ancora un minuto e quaranta in inferiorità numerica. De Giorgio. Ancora la palla per Jacopo Lupo, l'incrocio per Nelson. Con Ignazio De Giorgio, sempre uno contro uno. La palla per Giampaolo Sciorci. Che grande gol di Giampaolo Sciorci. Ma che passaggio di Ignazio, Antonio. Sì, sì, fino ad ora diciamo non è stata la partita diciamo straordinaria da parte di Ignazio De Giorgio ma questa giocata davvero, questa giocata è davvero, è davvero importante. e riporta due reti di vantaggio il conversano. Sì, Antonio, c'è stato un attimo di caos sulle panchine, poi vi diremo perché, non adesso. Bortoli, lo sfondamento su Giampaolo Sciorci. Sfondo di Thomas Bortoli su Giampaolo Sciorci. Questa, Antonio, è una situazione che ti avevo predetto al riposo tra primo e secondo tempo. 24-22 Ingenuità di Thomas Bortoli, ma invece grande chiusura di Giampaolo Sciorci. Dicevamo, nel momento precedente, la difesa del conversano era tornata in campo in quattro uomini. Ma in realtà doveva entrarne un altro, quindi situazione un po' confusionaria, ma d'altronde la partita ha dei ritmi altissimi questa sera, quindi c'è difficoltà per tutti. Fatto sta che conversano ha recuperato una palla importantissima in difesa e adesso conduce su più due, ma con un uomo in meno, ancora per 20 secondi. Nelson De Giorgio per Amtic, la palla a volante per Lupo, non riesce. Può giocare nella seconda fase Moretti. Ottimamente chiuso da Nelson, ancora Fantinato e tutto solo, non realizza per la grande parata di Pasqualino di Giandomenico. Grande parata, parata fondamentale di Pasqualino di Giandomenico. Qui lettura ottima della difesa del Cassano in precedenza sulla volante, sull'asse Radovcic, sull'asse Radovcic-Lupo. Palla ottimamente recuperata Francesco, ma questa pesa, se possibile, ancora di più della precedente, perché i minuti passano. Tiro alto di Jakob Nelson, 26 sul cronometro, conversano più due. Bortoli ancora, buona la difesa del conversano. Bene, bene la difesa del conversano. con Demis Radovcic in centravanti, posizione di centravanti. Quattro minuti al termine. Bisogna difendere con i denti, Antonio. Ormai non esistono più schemi, non esiste nulla. Solo cuore e testa e arriva. Il gol di Thomas Bortoli. 24-23. Bravo, bravo Bortoli, perché con l'uomo in marcatura è riuscito ad essere anche lucido nel girare il pallone sul primo palo, perché qua il tiro più ovvio sarebbe stato l'incrociato. Invece ha lasciato bene il polso sul primo palo e ha colto di sorpresa Pasqualino di Giandomenico. Quindi, bella rete del Cassano. E arriva il gol di Ignazio De Giorgio. Seconda rete per lui. In un momento importantissimo, Ignazio ci mette il suo. Diciamolo, Antonio, non stava disputando una grandissima partita sino a questo momento Ignazio, ma negli ultimi cinque minuti ha regalato due perle, due magie, una con il passaggio a Gianpaolo Sciorci e questa rete praticamente dal nulla. Tre minuti al termine. Conversano in vantaggio. 25-23. Questa è una difesa fondamentale. Sì, credo che da qui ai prossimi tre minuti sarà ogni palla fondamentale, ogni passaggio tra i giocatori fondamentale. Quindi lo ripeteremo, ma adesso per il Conversano bisogna difendere e per questi momenti decisivi. Alessandro Tarafino si affida alla 5-1 con Demi Stradovicic non in posizione di centroavanti. Lo vedo quasi in marcatura individuale su Alessio Moretti. Ancora Cassano in attacco, Moretti, la palla di ritorno per l'Amendola. Ottima, ottima chiusura di Lupo. Secondi che passano. Il tiro di Bortoli e ci mette una mano Pasqualino di Giandomenico. Questa è una parata incredibile, Antonio. Importantissima. Importantissima. Tutti in piedi, sui divani, Antonio. Sì, parata fondamentale. Anche Pasqualino non tantissime parate, ma in questi ultimi minuti due o tre parate, anche la rete da porta a porta fondamentale. Bene così. Conversano torna in attacco sul più due. Adesso i minuti da giocare sono sempre meno. Grazie. 25-23, due minuti al termine. di questo Cassano-Magnago-Conversano entusiasmante. Ancora Conversano in attacco. De Giorgio, la palla per Radovcic. Uno contro uno. Nelson si inserisce in doppio pivot Radovcic. Jacopo Lupo, il tiro di Jacopo e il gol! Il gol di Jacopo Lupo. Porta a più tre. Primo massimo vantaggio della partita al 28-36. Ancora Cassano. Bortoli da posizione non sua. Perde palla Bortoli. O meglio, Antonio, la conquista il Conversano. E noi qui siamo tutti in piedi al Palazzo San Giacomo per questa grandissima squadra che si accinge a portare a casa un'altra vittoria sul cammino verso lo Scudetto. Antonio, direi una partita bellissima. Non è finita comunque. Andiamo sino alla fine con Jacopo Lupo. Il tiro di Jacopo. Fermato. Ormai mancano poco più di 45 secondi. Tre reti in più per Conversano. Segnalazione di passivo. Palla di ritorno per De Giorgio. C'è il tiro, la parata di Monciardini. Ancora Cassano. Bortoli la scalata per Saitta. Ancora Jacopo Lupo su Saitta. Fallo. Sì, in precedenza rete fondamentale di Jacopo Lupo. Davvero molto, molto importante. È lucido anche il Conversano a rientrare in difesa e recuperare palla. Direi che in questi sette, otto minuti finali è uscita la forza del Conversano di queste prime venti giornate. La forza, la lucidità. Tutti i propri individui, il collettivo. Davvero meritano un applauso tutti i giocatori. Meritano un applauso davvero tutti i giocatori. Questo oggi, tutti i giocatori, allenatori. Una partita molto, molto complicata. Portata a termine sul più tre. Che dire, pochi commenti. Davvero uno spot per la Palamano italiana questa. è molto, molto bene così, Francesco. Affido a te il commento di chiusura. Davvero Antonio, complimenti in primis al Conversano per questa vittoria bellissima e sudatissima, ma altrettanto cercata e voluta sino al termine. Davvero una prestazione da incorniciare. Conversano è andata sotto anche di una rete, ha saputo reagire, pareggiare, trovare il vantaggio. Quindi, a mio parere, questa, Antonio, è una partita che davvero rappresenta un tassello in più verso la scalata finale, ma un tassello molto, molto importante. Sì, saranno... Umberto Giannocchi, il capitano, l'ha detto in settimana, saranno undici finali. Quindi mi sento di dire che il tassello più importante è sempre il prossimo. Quindi oggi era fondamentale, ma sabato prossimo col Pressano sarà una partita altrettanto fondamentale. Mi approfitto, Francesco, non salutiamo mai nessuno, ma con i giocatori al centro del campo mi approfitto, ti unirai a me per salutare Gennaro, il nostro amico Gennarone, che sicuramente ci starà seguendo e non aggiungiamo altro. E dunque, con le immagini dei festeggiamenti del Conversano, ah, dimenticavo naturalmente i complimenti anche al Cassano Magnago per la partita, ma con le immagini dei giocatori sotto la curva, noi vi ringraziamo per l'ascolto e dunque vi ribadiamo il punteggio Conversano 26, Cassano Magnago 23 da Francesco D'Alessandro e Antonio Luciano. Un saluto a tutti e buona serata.